Domenica delle Palme Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare, e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò, «Sei tu il Re dei Giudei?» Ed egli rispose, «Tu lo dici». Pilato disse ai capi e ai sacerdoti alla folla, «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo, «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi e sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, li mise addosso una splendida veste, e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi e i sacerdoti, le autorità e il popolo disse loro, mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme. Togli di mezzo costui, rimettici in libertà, Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano, crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli, per la terza volta, disse loro, ma che male ha fatto costui, non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò, e lo rimetterò in libertà. Essi, però, insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato, allora, decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e li misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto, e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse, «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà, Beate le sterili, i grembi che non hanno generato, e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti, cadete su di noi, e alle colline copriteci, perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo, chiamato cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo, Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, li si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, Se tu, se il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta, Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appese alla croce, lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro, invece, lo rimproverava, dicendo, Non hai alcun timore di Dio. Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli, invece, non ha fatto nulla di male. E disse, Gesù, ricordati di me, quando entrerà nel tuo regno. Gli rispose, In verità io ti dico, Oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno, E si fece buio su tutta la terra, Fino alle tre del pomeriggio, Perché il sole si era ecclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, Spirò. Visto ciò che era accaduto, Il centurione dava gloria a Dio, Dicendo, Veramente, Quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla, Che era venuta a vedere questo spettacolo, Ripensando a quanto era accaduto, Se ne tornava, Battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, E le donne, Che lo avevano seguito fin dalla Galilea, Stavano da lontano, A guardare tutto questo. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Le acclamazioni dell'ingresso in Gerusalemme e l'umiliazione di Gesù, Le grida festose e l'accanimento feroce, Questo duplice mistero accompagna ogni anno l'ingresso nella settimana santa, Nei due momenti caratteristici di questa celebrazione, La processione con i rami di palma e di ulivo all'inizio, E poi la solenne lettura del racconto della passione. Lasciamoci coinvolgere in questa azione animata dallo Spirito Santo, Per ottenere quanto abbiamo chiesto nella preghiera, Di accompagnare con fede il nostro Salvatore nella sua via, E di avere sempre presente il grande insegnamento della sua passione, Come modello di vita e di vittoria contro lo spirito del male. Gesù ci mostra come affrontare i momenti difficili e le tentazioni più insidiose, Cusodendo nel cuore una pace che non è distacco, Non è impassibilità o superomismo, Ma è abbandono fiducioso al Padre e alla sua volontà di salvezza, Di vita, di misericordia, E in tutta la sua missione è passato attraverso la tentazione di fare la sua opera, Scegliendo lui il modo e slegandosi dall'obbedienza al Padre. Dall'inizio, nella lotta dei quaranta giorni nel deserto, Fino alla fine, nella passione, Gesù respinge questa tentazione con la fiducia obbediente nel Padre. Anche oggi, nel suo ingresso in Gerusalemme, Lui ci mostra la via, Perché in quell'avvenimento il maligno, Il principe di questo mondo, Aveva una carta da giocare, La carta del trionfalismo, E il Signore ha risposto rimanendo fedele alla sua via, La via dell'umiltà. Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, Di falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di geste e di parole, Che però non sono passate attraverso il crogiolo della croce. Si alimenta del confronto con gli altri, Giudicandoli sempre peggiori, Difettosi, Falliti, Una forma sottile di trionfalismo, E la mondanità spirituale, Che è il maggior pericolo, La tentazione più perfida, Che minaccia la Chiesa. Gesù ha distrutto il trionfalismo, Con la sua passione. Il Signore ha veramente condiviso, E gioito con il popolo, Con i giovani, Che gridavano il suo nome, Acclamandolo Re e Messia. Il suo cuore godeva, Nel vedere l'entusiasmo, E la festa dei poveri d'Israele. Al punto che, A quei farisei, Che gli chiedevano di rimproverare i suoi discepoli, Per le loro scandalose acclamazioni, Egli rispose, Se questi taceranno, Grideranno le pietre. Umiltà, Non vuol dire negare la realtà, E Gesù è realmente il Messia, È realmente il Re. Ma, nello stesso tempo, Il cuore di Cristo è su un'altra via, Sulla via santa, Che solo Lui e il Padre conoscono, Quella che va dalla condizione di Dio, Alla condizione di servo. La via dell'umiliazione, Nell'obbedienza, Fino alla morte, E a una morte di croce. Egli sa, Che per giungere al vero trionfo, Deve fare spazio a Dio. E per fare spazio a Dio, C'è un solo modo, La spogliazione, Lo svuotamento di sé, Tacere, Pregare, Umiliarsi. Con la croce, Fratelli e sorelle, Non si può negoziare, O la si abbraccia, O la si rifiuta. E con la sua umiliazione, Gesù ha voluto aprire a noi, La via della fede, E precederci in essa. Dietro di Lui, La prima a percorrerla, È stata sua madre, Maria, La prima discepola. La Vergine e i Santi Hanno dovuto patire Per camminare nella fede E nella volontà di Dio. Di fronte agli avvenimenti Duri e dolorosi della vita, Rispondere con la fede Costa una particolare fatica del cuore. È la notte della fede, Ma solo da questa notte Spunta l'alba della risurrezione. Ai piedi della croce, Maria ripensò Alle parole con cui L'angelo L'aveva annunciato il suo figlio. Sarà grande, Il Signore Dio Gli darà il trono di Davide E suo padre, E regnerà per sempre Sulla casa di Giacobbe, E il suo regno Non avrà fine. Maria, Sul Golgota, Si trova di fronte Alla smentita totale Di quella promessa. Suo figlio Agonizza Su una croce Come un malfattore. Così Il trionfalismo, Distrutto Dall'umiliazione Di Gesù È stato Ugualmente distrutto Nel cuore Della madre. Entrambi Hanno saputo Tacere. Preceduti Da Maria Innumerevoli Santi e Sante Hanno seguito Gesù Sulla via Dell'umiltà E sulla via Dell'obbedienza. Oggi, Giornata mondiale Della gioventù, Voglio Ricordare I tanti Santi e Sante Giovani, Specialmente Quelli Della porta Accanto, Che solo Dio Conosce E che, A volte, Lui ama Svelarci A sorpresa. Cari giovani, Non vergognatevi Di manifestare Il vostro Entusiasmo Per Gesù, Di gridare Che Lui vive, Che è la nostra vita, Ma, Nello stesso tempo, Non abbiate Paura di seguirlo Sulla via Della croce. E quando Sentirete Che vi chiede Di rinunciare A voi stessi, Di spogliarvi Delle vostre Sicurezze, Di affidarvi Completamente Al Padre, Che è nei cieli, Allora, Cari giovani, Rallegratevi Ed esultate, Siete Su una strada Del regno Di Dio. Acclamazioni Festose E accanimento Feroce E impressionante Il silenzio Di Gesù Nella sua passione, Vince Anche la Tentazione Di rispondere, Di essere Mediatico, Nei momenti Di oscurità E grande Tribolazione Bisogna tacere, Avere il coraggio Di tacere, Purché Sia Un tacere Mite E non rancoroso. L'amitezza Del silenzio Ci farà Apparire Ancora più Deboli, Più Umiliati, E allora Il demonio, Prendendo Coraggio, Uscirà Allo scoperto. Bisognerà Resisterli In silenzio, Mantenendo La posizione, Ma con lo stesso Atteggiamento Di Gesù. Lui sa Che la guerra È tra Dio E il principe Di questo mondo, E che Non si tratta Di mettere mano Alla spada, Ma di rimanere calmi, Saldi nella fede. È l'ora di Dio, E nell'ora in cui Dio Scende in battaglia, Bisogna Lasciarlo fare. Il nostro posto Sicuro Sarà sotto Il manto Della santa Madre di Dio, E mentre Attendiamo Che il Signore Venga E calmi La tempesta Con la nostra Silenziosa Testimonianza In preghiera, Diamo A noi stessi E agli altri Ragione Della speranza Che è in noi. Questo Ci aiuterà A vivere Nella santa Tensione Tra La memoria Delle promesse, La realtà Dell'accanimento Presente Nella croce E la speranza Nella risurrezione. Grazie 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 Grazie.